boh, vediamo come sei bello ecco, comunque col suono c'è sempre qualche problematica di gioco usiamo un altro poi cazzo, ma che cazzo mi ha fatto male così, porco, due aaaaaah, via, 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 su qualcos'altro volevo quello ma no, vaffanculo volevo la vita di quello lì e invece ci ha ucciso quell'altro volevo vedere se lo facevano se è che sto parlando solo tempo ah, che pare, ecco facciamo un po' di attacchi che sei strontso, eh è un sacco, è un sacco di gioco dato questo rumore capire di quanto ha volto ci vuole puoi andare a prender vai, 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 vai questo è qua ok, verano mori? ah, cazzo così è morto senza darci un cavolo eh, adesso non mi ha beccato non ha fatto male la mia arma non c'è più niente ah, c'è lo sputo è veramente a stranzare la roba beh presenza demoniaca eliminata blocco a nulla ok ok cioè il round peggiore mi ha dato una data buona mi è andata bene ma ho fatto uscita le migliori di queste ma vabbè noi andiamo a a recuperare possibilmente un po' di roba pare che magari ci darà qualcosa anzi esauriamo anche la mappa ah, vedo qualcosa di verde ah no, sono le cose sì, sì, non sono i pulsanti allora vediamo un attimo però qua resta questo discorso che non non mi è chiaro temo che ce la siamo persi quello ormai ah, ok pensavo che che salisse ma era un po' che guardavo qui così dicano su e giù quindi immaginavo che in un qualche modo ci entrassero ci fanno fare il super mario qua secondo le rivelazioni energetiche dell'accumulatore si sta avvicinando alla cima di questa struttura se rompesse l'accumulatore vicino al raggio potrebbe aprire un portale sul loro mondo un portale che non potremmo mai più richiudere insomma, è una bella pazza furiosa ce n'è uno là e ce n'è uno là in fondo ma si abbiamo fatto che c'è niente niente quelli erano i piani per salire con l'ascensore molto qua dentro non c'è niente né di là né di qua wow qui hanno fatto qualcosa di enorme come è raro ormai non c'è niente che dirlo oh no di salire cosa serve ok 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 ciao 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 Modello, evocatore, viola Modello, evocatore, viola Modello, evocatore, viola Chissà cosa succede qua Cazzo Certo grazie tesoro Espero che riparta d'acqua In realtà non è lo stesso posto Prendiamo qua Cazzo Ah ma col culo Ma va Se stai equipaggiando la motosega Se premi quello del corpo a corpo Comunque fa la motosega Due volte mi ha fregato Questa storia Ha ha, vengo ancora piuttosto di prima Questa storia no Non c'è adesso. E i più pericosi restano sempre questi qua. E arriva il copo a tradimento. A proposito di colpi a tradimento. Quindi stanno arrivando a fiotte qua. I colpi a tradimento. E che mi sparo. C'è ma quanti cavolo sono? Se ci manca anche l'evolucatore abbiamo fatto l'unplane. Ma quanti sono? Non siamo alla fine del gioco spero. O si? Mi sembra di ricordare che fosse abbastanza lungo. Inizia a avvenire un dubbio. Lui sta ancora in modalità lì nel cacca fuori. Alla fine. Ragazzi ma ha preso dentro questo? Ma che sia meglio stare Stare qua nel meandri qua dietro Muori o no? Eh vabbè arrivi te Porco dinci Fuori o no? Lì c'è finti Ah però lì c'è un'armatura Andiamo qua Vai vieni giusto Cazzo ma guarda quanta gente Porco Eh vabbè ti ci impegni Poi ti fanno fuori quelli di sopra Venite giù Enormi E' un'altra Eccolo là ce n'è uno là Andiamo qua sopra Qui il quadro non l'hanno dato Eccolo là Cos'è quello lì? Infunerabilità A saperlo prima A saperlo prima Ok Va bene Va bene va bene Devo andare qua per tempo Eh Niente Niente munizione Questa cos'è? Niente La strada per l'inferno Era strada per l'inferno Era strada per l'inferno Di ergi Grazie Ok Ma no ma il gioco non può essere finito qua Anche perché c'è ancora Un po' da potenziare Credo che Mettiamo al massimo Sovraccarico Argent come achievement Allora Guardiamo un attimo La situation qua Ah Adesso dobbiamo scendere là Qua? I segreti ne mancano Ancora tre Adesso qua puzza un po' Vabbè Qui usiamo No? Non da Non ricarica l'armatura Quindi Ok va bene Scusa se ci ho provato Sembra di là Ok Ok Cioè ma ha chiuso la porta La strada No si è sposta Entra Cioè per me non è così Devo aspettare che scendeva da fare Forse è di dietro Andiamo Ok No Se mi ci si infilo dietro Mi schiazza Dai che mi schiazza Dai proviamo a fare Sto sciocchezza Ma non si è aperto Però Ma va Ma va Fa un bagno No come si fa Andrà lì Oh certi misteri Sono proprio misteriosi Dove è che va Oh si danno il cambio Andiamo su A questo punto direi che Dobbiamo andare su Ah va va Sceso Ok 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 Allora, vediamo quando esce qua, non lascia, perché sembra che forse da qua andiamo lì. Ma è palla, ci avevo aspettato, è già, forse qua esce, lì, 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 sembra. Tra l'altro non dobbiamo mica prendere il checkpoint. No, ma in realtà dobbiamo proprio salire, ma proprio perché c'era il punto giallo là in basso. Vabbè, vabbè. Oh, wow. Ah, non serve a niente. Ah, senza che andiamo di passi, forse là. Wow, che bella l'ombra che c'era. Facca. Sì, grazie. Ucidetemi qua, mi raccomando. Alfa, tui te. Grazie a tutti Questa volevo fare Stovi Anche c'è Ma no Questo Ma cazzo Cinque Stiamo fuori Sti colossi Poi ci da Il nulla Parola è venuto Sulla stronza Questo esplosivo Allora Ok Vediamo C'è una sfida Lì Ma Questo è sempre Il ruolo della mappa È impossibile Il ruolo della mappa L'equipaggiamento Dieci Riluttanti Con danni Da barile Però C'è È solo Con danni Da barile C'è Oh cavolo Eh eh Dietro di me Ok 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 Va bene, siamo pure stupidate queste, io ho anche saltate, no, fatelo, e soprattutto nel, in eternal vedrò di non farlo nemmeno io. Potenza equipaggiamento 1, vabbè, ok adesso siamo qua, ma che buono, che sembra che sia di chi, ma no? Che dici, non c'è niente problema. Oh no. Fuck. Caerlo con la ruta, no mi piace. quindi non vi è incastrato non può impedirmi di reclamare quel che mi spenda di diritto quel che mi hanno promesso non vi città